L'autostrada Trecorsie si ferma a Pedaso, la Puglia ha già una sua statale 16 bis. Dei mille chilometri di strada adreatica resta il tratto centrale in affanno, Marchesud, Abruzzo, Molise e Puglia fino a Foggia, che avrebbe bisogno di ammodernamento e di varianti. Lo studio di fattibilità è stato presentato a Fossacesia dall'ANAS, ai sindaci della costa dei Trabocchi e alla provincia di Chieti. Sono 56 chilometri che interessano il tratto di costa provinciale, da Ortona a Vasto. L'ANAS elaborerà a breve una proposta progettuale in merito alla quale i comuni saranno chiamati ad esprimersi. In tempi celeri è stata la sollecitazione del capo compartimento Abruzzo, l'Elio Russo. Alla provincia aspetterà il compito di coordinare il tavolo tecnico per addivenire ad una soluzione progettuale finale omogenea. Il presidente Enrico Di Giuseppe Antonio. Cosa fare adesso? Dobbiamo fare una previsione di un tracciato omogeneo su tutto il territorio condiviso con i comuni nel piano territoriale di coordinamento della provincia di Chieti. Poi saranno i comuni a dover inserire questa provisione nei loro piani dei regolatori. Cosa significa? Che è tutto pronto per ottenere il finanziamento perché poi si potrà procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva. Oggi credo che sia stata una giornata importante per la politica di questo territorio. Senza infrastrutture moderne adeguate noi non possiamo puntare né allo sviluppo del turismo né soprattutto ad attrarre investimenti di imprese nel nostro territorio e penso sinceramente che questo è un metodo che dovremmo seguire da oggi in poi.